Siamo in compagnia della responsabile dell'Ufficio Cultura della città di Albino, la signora Luisa Madonnali. Il Comune ha organizzato in questi giorni due iniziative che prenderanno il via sabato in occasione della festa della donna. Chiediamo alla signora Madonnali di illustrare appunto questi due appuntamenti. Entra nel vivo la stagione culturale e teatrale dell'Auditorium di Albino. Sabato 8 marzo ci sarà una festa dedicata appunto alla festa della donna con un concerto di musica d'autore italiana. Saranno esecutori Marino Remigi, Olivier Robiella e Silvia Pala che leggerà i testi di alcuni brani di cantautori italiani. Mentre la settimana successiva dal 14 di marzo fino al 22 di marzo abbiamo programmato quattro serate dedicate al teatro e nell'ambito della rassegna Benvenuto Teatro, una rassegna dedicata al teatro amatoriale e alle compagnie non professioniste bergamasche in memoria di Battista e Benvenuto Cuminetti. La rassegna ha avuto quest'anno, è una rassegna concorso che comporta un premio poi alla miglior compagnia e al miglior attore il premio appunto Benvenuto e Battista Cuminetti e ha avuto l'adesione di sette compagnie teatrali di varie estrazioni. Abbiamo anche una compagnia dialettale, abbiamo una compagnia che basa lo spettacolo sulla musica e sulla danza e anche una compagnia di disabili. Il programma della manifestazione? Allora il 14 di marzo ci saranno le prime tre compagnie in gara che sono la compagnia Brilla la Luna e la Dinamite che è uno spettacolo sui minatori, gli Waitings con Monte dei Pegni, uno spettacolo sul tema dell'attaccamento agli oggetti e Sognatori con Abissi. Il sabato 15 marzo fuori concorso l'orchestra Fiati del complesso bandistico di Albino presenta Odisseo, il viaggio di un uomo. Venerdì 21 marzo la compagnia di diversi ingranaggi fondata dalla cooperativa La Fenice presenta Fatti della stessa materia dei Sogni, regia di Giussi Marchesi e la compagnia Le Mosche Teatro di Valtesse presenta lo spettacolo autunno. Le Mosche Teatro tra l'altro sono stati vincitori della prima edizione della Rassegna. Per concludere fuori concorso sabato 22 marzo la compagnia teatrale Il Fiume di Zogno presenterà Ospedal Fidasso Fidasmia. Appuntamento quindi sabato 8 marzo all'auditorium per la festa della donna e viceversa il 14 marzo per l'inizio della Rassegna. Per la festa della donna dimenticavo di citare la collaborazione di due associazioni, le Mamme del Mondo, che offriranno un rinfresco a tutti i presenti alla festa e l'associazione Fiori di Lotto, attiva per la lotta alla violenza nei confronti delle donne. Una cosa, l'ingresso è libero? Sì, tutti gli spettacoli sono in ingresso libero. Grazie alla signora Madornali. Da Albino, lì nello studio.